Voglio farvi vedere queste cifre che sono state diffuse da True Numbers, cioè numeri veri, numeri reali, di Marco Cobianchi, che è molto utile come sito per capire come stanno le cose, e i numeri sono stati forniti dal Parlamento Europeo. Parliamo di ricollocazione. Ebbene, il piano di ricollocamento va malissimo, ma questo l'abbiamo capito. I dati si riferiscono al febbraio di quest'anno e ha funzionato questo piano per quasi 12.000 rifugiati su 160.000 in totale. Chi ha fatto maggiormente il proprio dovere? Ecco qua, chi ne ha ricollocati di più? Lo hanno fatto soprattutto i più piccoli, per esempio il Liechtenstein, si è fatto a carico del 100% del ricollocamento dei migranti assegnati. Ma stiamo parlando, insomma, i numeri sono molto piccoli, di 10 persone, i numeri assoluti per capirci. La Norvegia ha accolto la metà della quota, diciamo quasi 500 su 1.000, e la Svizzera 368 persone sulle oltre 1.000 assegnate. Chi invece si è comportato peggio, e vediamo questi altri numeri, cioè chi ne ha ricollocati di meno, ecco lo vedete. Ebbene, Polonia, Ungheria, Austria non hanno accolto nessuno finora, a dispetto delle dichiarazioni dei loro governanti. Ma colpisce molto che Germania, Svezia e Belgio, che diciamo hanno avuto un ruolo anche a parole più propositivo rispetto al ricollocamento, non stanno facendo nulla di concreto. Ecco, si vede molto chiaramente da quelle colonnine tra i migranti ricollocati, che è il numero in verde, e invece quelli che dovevano essere ricollocati in rosso. Ecco, questo altro per dare qualche cifra e non lasciare le parole in libertà. Allora...